Ciao a tutti, la seduzione emozionale funziona? Prima di affrontare questo tema iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Allora, sembrerebbe chiedere all'oste se è buono il vino, il suo vino, e l'oste ti risponderà sempre di sì. Allora, tra l'altro io terrò un corso proprio sulla seduzione emozionale venerdì 29 novembre 2019 a Torino alle 20.45, il riferimento è il 333 15 11 703, lascio le info nel box. Ma veniamo al tema se funziona e come funziona. Allora, bisogna prendere atto di un fatto fondamentale, questo è molto importante prenderne atto, diciamo, che la seduzione non si basa sulla logica e sulla razionalità. Se si basasse sulla logica e sulla razionalità noi non ci innamoreremmo di persone che ci fanno soffrire, perché da un punto di vista logico nessuno vuole soffrire. È pur vero che da un punto di vista logico le persone, diciamo, vogliono stare bene. Ognuno di noi va alla ricerca del piacere. E allora perché spesso cadiamo nelle trappole, ad esempio, di personaggi narcisisti, i personaggi, diciamo, che in qualche modo non gratificano le nostre esigenze, che in qualche modo ci generano sofferenze. Perché capita questo? Perché ci hanno sedotti emotivamente, non ci hanno sedotti logicamente, no? Prendiamo atto per capire se funziona, partiamo da noi stessi. Se una persona, se tu ti innamori di qualcuno che ti fa soffrire, è perché questa persona che ti fa soffrire in realtà ti ha generato delle emozioni che hanno prevaricato la sfera logico-razionale. È evidente che la sfera logico-razionale è stata prevaricata, altrimenti avrebbe messo le difese. Quindi, proprio facendo, come dire, affidamento su te stessa o su te stesso, puoi sicuramente capire se la, diciamo, se la seduzione emozionale funziona. Questo è evidente che lo puoi comprendere. Ora, una volta che, e a me sembra veramente evidente, diciamo, il fatto che una persona, da un punto di vista logico, non si innamora, ma si innamora solamente da un punto di vista emotivo, sorge il problema a come fare? A far sì che noi non ci innamoriamo di persone che ci fanno soffrire e che invece facciamo innamorare le persone che ci danno piacere. Allora, questa è una comunicazione che va su due livelli, va su due versanti, va su due fronti. Il fronte verso e il fronte verso. Cosa significa questo? Beh, uno significa che se una persona ti fa soffrire è perché ti sta dando delle emozioni, quindi delle emozioni perché la tua parte emotiva vuole queste emozioni. Quindi l'unico modo per non soffrire è diventare emotivamente indipendenti. Noi l'indipendenza dobbiamo trovarla sotto diversi punti di vista. Questo non c'è verso, è indispensabile e fondamentale. Dobbiamo diventare indipendenti da un punto di vista logico, dobbiamo diventare indipendenti da un punto di vista logico nel senso di economico, ad esempio, dal punto di vista logico-razionale, essere indipendenti da un punto di vista sociale, saperci muovere nella società, saper fare le cose che vogliamo fare. Questo è importantissimo e dobbiamo diventare indipendenti da un punto di vista emozionale. Da un punto di vista emozionale vuol dire che dobbiamo essere in grado di approvvigionarci di emozioni. E anche da un punto di vista istintivo, cioè avere una buona vita sessuale, ad esempio, è molto importante, perché senza una buona vita sessuale non otteniamo, anche lì, come dire, non è che otteniamo grandi risultati, da un punto di vista emozionale. Poi, secondo i propri obiettivi, dal punto di vista emozionale è importante, perché se abbiamo la pancia piena delle emozioni, non andiamo a mangiarci polpette avvelenate. Dentro di noi è come se ci fosse una sorta di cane da guardia, se questo cane da guardia gli dà le polpette buone, non va a cercarsi le polpette avvelenate del primo ladro che passa. Però, per fare questo, dobbiamo fare un po' di atti di coraggio. Cioè, il erogarsi emozioni vuol dire fare un po' di atti di coraggio, e, ad esempio, negando la possibilità di zerbinarci. L'orgoglio è un'emozione. Dobbiamo imparare ad autosomministrarci. Tutto questo, comunque, lo spiegherò in dettaglio venerdì 29 novembre 2019, alle 20.45 a Torino, al seminario che farò proprio sulla seduzione emozionale. Per quanto riguarda la seduzione degli altri, dobbiamo imparare, invece, a erogare delle tensioni emozionali, perché siccome sono le emozioni che fanno innamorare e fanno sedurre e seducono, e questo penso che sia chiaro, che funzioni in questo modo. Mi sembra che se pensi a te stesso o a te stessa te ne renderai conto. Dobbiamo avere la capacità di dare queste emozioni. E quindi, devo capire che cibo devo dargli. Può come dire, se devo, i pescatori lo sanno, chi va a pesca in un lago, dove ci sono magari diversi pesci, deve sapere che esca a buttare per quel tipo di pesce, perché per un pesce ci va un'esca, per un altro pesce ci va un'altra esca. E se tu butti un'esca, pescherai quel tipo di pesce, non ne pescherai un altro. E questo è importante. E' importante perché anche, non è che tu puoi buttare un'esca a caso e sperare di prendere il pesce che vuoi tu. Devi buttare un'esca mirata. E così devi mettere le emozioni mirate per quella persona che ti interessa. Quindi questo è fondamentale, è importante, mettere le emozioni per quella persona che ti interessa. Perché se non metti le emozioni per la persona che ti interessa, beh, di fatto non tieni nessun risultato. Non puoi tenere risultati se non metti le emozioni che vuoi mettere. Questo è importantissimo, perché se non fai così non raggiungerai veramente nessun obiettivo. E un'altra cosa importante che devi fare è quella di quindi cogliere tutto il non verbale dell'altra persona. perché capirai anche che le emozioni sono su un piano non verbale e non su un piano verbale. Il non verbale è il linguaggio del corpo che ci dice cosa esattamente serve perché noi esprimiamole. Mentre esprimiamo attraverso la parola, l'informazione, esprimiamo l'esigenza logica, esprimiamo quello che vuole la nostra parte logica, tutto attraverso la comunicazione non verbale esprimiamo l'esigenza emotiva. E quindi chi sa leggere la comunicazione non verbale sa leggere le emozioni degli altri. Ed è questo che imparerai al corso che farò venerdì 29 novembre 2019 a Torino alle 20.45 per imparare a sedurre. È il riferimento al 333 15 11 703. Ad esempio, se tu dici, che ne so, parli della parola magari parlando di tradimento, potresti dire una frase, magari alla collega d'ufficio che ti piace, potresti dire ma sai che l'azienda madre ci ha tradito e sta spostando la produzione in Polonia e noti che lei sul tradito fa un mordichiamento in questo modo, sarà tradita affettivamente e l'affetto che si sente tradita negli affetti. Se invece fa un mordichiamento in questo modo, gradisce il tradimento fisico e quindi tu dovrai a seconda di queste indicazioni quindi comportati in un modo o nell'altro. Questo è un piccolo esempio per capire come funzionano le cose. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco iscriviti al canale e iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!